Rieciamo un po' complessa mettere le braccia in questo modo. Ti crea una struttura tale che ti permette di resistere a un grosso impatto perché un poco spazio, orientando bene le spalle e facendo radicare bene la base ti permette di contrastare un colpo piuttosto forte. Ora lei è 45 kg, io sono circa 70 kg, fai la parata come si deve. Quindi fai la parata. E lì sono arrivato. Lavorando sulla parte giusta dell'avambraccio e portando fuori l'aria nel tempo giusto dell'impatto si riesce ad ammortizzare un colpo di una certa portata. E non si muove. Quindi non è una questione di stazza, è una questione di impostazione e compattezza. La struttura. Siamo oltre.